Confronti di Deco e anche di Ronaldinho, in paglio dovrebbe esserci l'epallone d'Oddio Ancelotti che è stato compagno di squadra di Frenkie Rijkaard in le quattro stagioni Nel 2000 è stato eletto miglior giocatore della difesa, miglior giocatore nella finale di Vienne aveva sempre battuto i rossoneri Vediamo Clarence Ederf, conclusione, non inquadra lo specchio della porta che protegge la difesa ma c'è l'anticipo di Marquez Cheval Paolo Maldini, scambia bene di tacco, cacca Precedente contro il Celtic, attenzione, la conclusione di Schaby dalla distanza pure lui non inquadra lo specchio della porta Conclusione da parte di questo giovane regista classe 1980 Motore del gol partita contro lo Schakard Donets Prova la percussione, ancora cacca, cerchia Cerchenko, attenzione, la confusione, la posizione è quasi impossibile Era tra i due avversari, è riuscito a far partire questo diagonale E ha impegnato Maldesso, ottima risposta di Schaby ancora Posizione irregolare questa volta da parte di Pico Inzaghi Milan e Real Madrid Anche giocato Deco ancora, attenzione dalla parte opposta Prova, 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 prova Larson Palata sopra la traversa, andiamo ancora a bordo campo ad Alberto D'Agueno Sì Bruno, avete visto qualche difficoltà negli appoggi nella misura Larson, erroraccio, questo di Cacca Poi c'è stato il provinciale territorio di Nesta Attenzionetto, attenzione Larson Traversa clamorosamente il Barcellona Con Eric e Larson Ricordiamolo, 175 gol in 221 partite Giocate con il Celtic Palla alta sopra la traversa Aspetta i rinforzi, non arriva nessuno Prova ancora Shevchenko Deviazione per noi qualche istante Pusione centrale scambia con Serro Palla messa dentro, attenzione Posizione regolare E anche il Milan ha avuto la sua palla gol con Shevchenko Che ha tentato di rinforzare Andiamo qui, pomaldini mette in mezzo La palla arriva Nella maglia del Portogallo nella gara dell'esordio Proprio contro il suo Brasile Nulla da fare per Shevchenko Come Pirlo che recupera la palla Ancora Pirlo può tentare il tiro Attenzione Centrare, facile la parata Sulla conclusione delle 20-50 centrocampiste del Milan Ricordiamolo Ha dato a segno su calcio di punizione contro il Celtic Che autore una bellissima rete Domini del campionato a Cagliari Ha dato tempo ai due centrocampisti di rientrare Attenzione BOOOOOOOL Andri Shevchenko Malinteso della difesa Shevchenko ne ha approfittato E ha messo il pallone alle spalle di Valdés Quando siamo esattamente alla mezz'ora In Milano Due e cinque reti Mentre Larsson ne ha segnato i tre Ha tentato il colpo Sulla stia per 4-0 Attenzione Ronaldinho E questa volta 49esimo euro goal Vediamo la palla calciata Da Claren Sedorf Deco Vedete Shevchenko Che con grande eleganza Ha saltato un primo avversario E sempre da quella posizione di mezzo sinistro Prova a scaricare il destro È una centralmente per Deco L'intervento providenziale È stato di stampa Poi la conclusione di Ronaldinho Che questa volta ha centrato Lo specchio della porta Ma ha strangolato Punto di prima Deco Attenzione Penetra in area di rigore Arriva in area di rigore E propone queste triangolazioni a palla bassa Una volta sola Come abbiamo detto in Champions League Attenzione la palla Attenzione Perché ha riso questa volta E l'arbitro dice che si può rientrare negli spogliatoi Cinque ancora a buon calcio Inizia in questo istante Il secondo tempo di Milan-Barcellona Se n'era andato Attenzione Inzaghi Inzaghi In trenare di rigore Inzaghi Inzaghi Deco Pallone che si impenna Maldini mette fuori Un colpo di tacco Mentre vedete Iniesta Uno dei panchi Tende il pallone in area di rigore Hanno tentato una combinazione Lanciato Posizione regolare per Shevchenko Che mette in mezzo Cerca Inzaghi Ancora Shevchenko Si restreggia Se ne va Può tentare il tiro Eccolo qui Il boato Del pubblico di San Siro Dopo il gol del primo tempo Voleva realizzare la doppietta Rivediamo ancora l'azione Aspetta Shevi Ma vedete Cafu Ancora Prova poi la confusione Alberto Daguanno Vediamo che cosa succede Con Deco Che può tentare il tiro Attenzione Mentre Se non vado errato È pronto ad entrare in campo Anzio Perinzaghi Penetra in area di rigore Alle prese con Ole Ger Ronaldinho in posizione di tiro Eccolo La grande parata di Dida Pericolosa questa confusione Di Ronaldinho La parata di Dida E c'è un altro calcio d'angolo Dunque per il partito Finora dall'inizio Della stagione Ovviamente nella Liga Il cross Di Shevchenko Molto bello Purtroppo Invece la conclusione È stata un po' fianca Abbiamo superato La metà del secondo tempo Sempre un a zero Per il Milan Un due calcio d'angolo Con calma olimpica Aspetta la battuta Tocco da parte Di Neste Attenzione Qui cosa ha fatto Kakà Un colpo Cosa ha fatto Kakà Un colpo Da campione Questo di Kakà Ed ora qui c'è sicuramente L'ammunizione Per Pujol Dopo questa giocata Splendida Gli è andata bene Che l'ha tirato fuori solo il giallo E noi ci fermiamo ancora Per qualche istante In azione Dalla parte opposta Deco Grandi pericoli Conclusione di Iniesta E per fortuna Del Milan Il ventenne Centrocampista Sparato alto Sì ma Shevchenko Ha avuto una palla Clamorosa Tra il Pippo Enzaghi Che deve rimandare L'appuntamento Con il Ora Ronaldinho Sta per entrare in area di rigore Ha trovato Nesta Sulla sua strada Ma è se Belletti Belletti può andare al tiro Eccolo Rivido Per la tifoseria del Milan E Diagonale Che termina di poco alato Alla destra Di Cistono Nella loro manovra Sbaglia questa volta Pirlo Attenzione Xavi Dunque Eccolo qui Kakà Nelle coppe europee Lui che Nella passata Pirlo Ha recuperato la palla Prova a destreggiarsi Viene messo giù Da Xavi Che ne ha agganciato Il piede per Xavi Limite dell'area Attenzione Che arriva Iniesta Il tiro Ancora una volta Il legno Salva Dida Nel primo tempo C'era stata La conclusione di Larsson Contro la faccia alta Della traversa 3 minuti 3 minuti In sovrimpressione L'abbiamo visto Sta decidendo Shevchenko Vediamo La palla Catturata Che pirlo Attenzione Ronaldinho Imprendibile Se ne va Ronaldinho La sua Accelerazione Il tiro Allare Gattuso Si proprio lui E dice L'arbitro Che è finita Prima sconfitta Del Barcellona Ma come abbiamo detto Quarantesima vittoria Del Milan Allare Gattuso